Volevo anche dire una cosa al professor Faschino, gliel'ho anche scritta, non so se l'ha vista, data l'eccezionalità della giornata, se lui avesse altri impegni o non potesse essere presente tutte le due ore, ce lo dica tranquillamente, rinunceremo alle sue preziosi conclusioni. Se invece non è sollecitato sarà un piacere averlo per le due ore, in ogni caso chiuderemo alle 19. In attesa di cominciare, vediamo un attimo Piero, Stefano Rolando sappiamo che ha avuto questo piccolo intervento, mi ha detto che cercava di collegarsi però appunto non sappiamo ancora, quindi non sappiamo se lo potremo prevedere subito dopo il professor Faschino, comunque spero che si collegherà. Gian Piero Gamaglia è impegnato in lezioni, si collegherà nella seconda parte, ha delle lezioni e degli esami e quindi si scusava. Credo che Giacomo, che è il nostro direttore, dovrebbe collegarsi Piero, prova a chiamarlo magari. Lo sto chiamando. Giacomo, ecco la stessa cosa il professor Sorice e intanto volevo appunto ringraziare un giovane studioso che mi è stato segnalato dal professor Faschino che ha fatto una bellissima recensione del libro del professor Paschino che ho qui, Libertà inutile, che è praticamente il seguito del profilo ideologico di Bobbio e che è un libro molto importante e anche al di là del fatto che operi tra scienza e politica come si autodefinisce invece nell'autobiografia del professor Paschino è un libro che io ho trovato polemico, come è stata polemica e gradevolmente polemica, sono state polemiche e gradevolmente polemiche le considerazioni che lui fece e che lui ha fatto in occasione del nostro primo articolo sulla democrazia e la contendibilità attraverso un sistema elettorale maggioritario delle nostre democrazie. In particolare penso al capitolo legato al ragionamento sull'esterno, il dibattito intorno al compromesso sporico, alla scomparsa delle conture politiche. Si sente, professore, un'amarezza ma anche quello che io in privato vorrei cercare di approfondirlo anche nei prossimi numeri della rivista mi sono permesso di chiamare il concetto di intellettuale praticante della democrazia, ecco, è una cosa che mi ha colpito molto oggi viviamo una crisi indiretta che secondo me è fina in questo presentismo in cui una dichiarazione vale l'altra Twitter si blocca e tutti quelli che avevano pronta una dichiarazione politica non la pubblicano perché c'è stato Twitter è andato in palla, aspettano, la modificano tre minuti dopo o quattro o cinque minuti dopo. Vedo che anche Guido Barlozzetti è arrivato e lo saluto affettuosamente. Allora, possiamo cominciare? Sì, Giacomo Mazzone dovrebbe essere in arrivo. Sì, c'è il professor Malvicini che... Voi mi sentite? Sì. Voi mi sentite bene? Assolutamente sì. Perfettamente, professore. Ok, grazie. Di nuovo una preghiera alla dottoressa Trevisani, se può chiudere il suo microfono perché entra un po' di vento dal fatto che è in movimento. Grazie. Ecco, ecco il nostro direttore Giacomo Mazzone che si è collegato. Ciao Giacomo, non so se sei in Sardegna, eccetera. Sei al mare, sei in Sardegna, però insomma questo sacrificio ti spettava e ti ringrazio molto. Niente, io praticamente non ho niente da dire come introduzione perché mi sono permesso di mandarvi queste poche righe. Noi abbiamo vissuto l'esperienza di Draghi all'inizio dopo il caos dei mesi precedenti, come con un certo sollievo. Mi ricordo che il professor Pasquino aveva sollevato un po' gli occhi, le sopracciglia di fronte a questo entusiasmo di allora, ma... Però sostanzialmente l'impressione era che l'Italia, in un momento in cui fra l'altro erano la Germania e la Francia, la vigilia delle elezioni, che si trovavano in una situazione abbastanza complicata, l'Italia avesse l'occasione per assicurare per lo meno per un certo periodo una governabilità a fronte e la soluzione di tutta una serie di problemi drammatici, che ci parevano drammatici. Beh, insomma, adesso se guardiamo il quadro europeo, la Germania a blocco del gas. Il quadro politico è forse uno dei migliori in fondo, perché c'è stato questo forte accordo fra le forze politiche, come fanno sempre prima per preparare il contratto di programma. La Francia, per la prima volta o la seconda volta, le elezioni parlamentari, che dovevano essere una ratifica della maggioranza presidenziale, sono andate così così per il governo Macron. Abbiamo un articolo di Alberto Toscano, anticipato recentemente, che spiega un po' le ragioni che non sono solo Parigi e la provincia, Parigi e la banlieue, ma proprio anche trasversalmente alle aree urbane e rurali, due Francia che si stanno disegnando nuove, dove appunto comunque il fronte nazionale si è radicato. Abbiamo la Spagna che comincia a conoscere dei problemi nella grande terra socialista dell'Andalusa, c'è stata una coccente sconfitta di Sanchez e abbiamo il primo governo che farà piacere a Putin, che è saltato, che comunque nel clima britannico non è una grande tragedia, la crisi di governo. Insomma, oggi non sappiamo cosa succederà, però vorrei riservare al massimo qualche minuto alla fine sulla situazione congiunturale di oggi. Intanto non sappiamo ancora, non so se Draghi sia uscito dal Consiglio dei Ministri, ma... E' andato da Mattarella... E' andato da Mattarella... E' andato e tornato, ma non sappiamo ancora. Ecco, fare questa cronaca tutto il minuto per minuto è interessante, eccetera, per i retroscenisti, credo che per lo storico e anche per lo scienziato della politica, mi corregga professore, è piuttosto insignificante. Quindi cercherei di semplicemente chiedere al professor Pasquino di rispondere a tre domande, che erano quelle proprio perché avevamo pensato, poi è capitato questo 14 luglio, quello che è successo. Da un lato, dopo 18 mesi, insomma, quale bilancio si può fare di questo governo, confrontandolo anche con altri governi tecnici come quello di Ciampi e quello di Monti. Dall'altra parte, prendendo spunto da una metafora scritta in un bel articolo all'inizio da Guido Barrozzetti, che parlerà dopo di lei, è una meteora o una cometa di questo governo? Ed è positivo che sia una semplice meteora per poi ritornare a una normale democrazia dei partiti, o è meglio che sia una cometa che stradi la strada ancora per molto tempo. Un toccasana o un vulnus per la democrazia in Italia, ormai prive del ruolo assegnato ai partiti dalla nostra Costituzione. Ecco, questo io direi che se lei riuscisse in 15 minuti, 20 minuti, tutto il tempo che vuole a rispondere a questi interrogativi, avremmo già fatto un passo avanti. L'obiettivo di questo seminario, professore, è quello di mettere a punto, come se fossimo in una riunione redazionale, i temi da assegnare nei prossimi numeri alla vigilia di importanti scadenze. Professore. Caro sono Alvico, anzitutto la ringrazio naturalmente dell'invito, che evidentemente contiene anche una parte di stima, però io la temo moltissimo, temo le sue reazioni, temo le sue richieste successive al mio intervento, credo che mi chiederà di scrivere quello che ho detto, e quindi già mi ritraggo, è un'estate molto calda a Bologna, è un'estate politicamente imprevedibile, ci sono molte altre cose nella vita, io mantengo il mio entusiasmo solo per le partite che il Toro vince, in particolare quando sconfigge la Juventus, temo che fra di voi ci siano persin troppo juventini, e quindi cerco di tutelare. No, Gamalia non c'è, non c'è un correo a Gamalia, forse è vero. Ok, comunque cercherò di tutelare. Io comunque guardi, sono stato scusi, professore, io ero un grande stimatore di Mazzola, e ho scoperto anche attraverso Mazzola suo padre, e quindi il mio cuore era sicuramente, prima che nascessi in altra vita, nel grande Toro. Io ho conosciuto anche dei tifosi Granata importanti, Rodotà, Traxi, Nicola Mancino, e così via. Come si vede è un problema generazionale naturalmente, dipende dall'età, oggi certamente molto meno. Cercherò per l'appunto di situare l'esperimento, Draghi, non saprei ancora come chiamarlo, certamente non è una cometa, sicuramente è più meteora che altro, però il problema è che il cielo della politica italiana non consente la comparsa di meteore. E quindi dirò alcune cose cercando di collocarle, da un lato nella storia d'Italia, ovviamente nella storia recente d'Italia, e dall'altro nella storia delle democrazie contemporanee, perché sbagliamo sempre, se continuiamo a pensare solo a quello che succede in questo paese, senza vedere fuori, lei giustamente ha fatto esempi che riguardano la Gran Bretagna, la Spagna, la Francia, e io li farò buoni e li approfondirò. Quindi il primo punto da sottolineare è che nella storia d'Italia Draghi non è il primo governo che io rilutto a chiamare tecnico, un mio allievo mi ha fatto notare che l'espressione migliore è un governo guidato da un uomo non di partito, quindi un governo non partitico, un primo ministro non partitico, non partisan come si dice in inglese, non è il primo, lo sappiamo, è il primo Fudini, seguito da Ciampi, poi da Monti, e in una certa misura anche Conte appartiene a questa categoria, anche se era il capo di un movimento, continua a essere il capo non particolarmente brillante, di un movimento sempre meno brillante, e poi arriva Draghi. Quindi c'è una sequenza, però dovremmo essere molto preoccupati dalla sequenza, perché la sequenza incomincia nel 1994, quando pensavamo che avremmo ristrutturato il sistema politico, invece non abbiamo ristrutturato un bel niente, quando pensavamo che il sistema potesse essere ristrutturato dalle persone, piuttosto che dei meccanismi, pensavamo che bastava cambiare la legge elettorale, che fu giusto cambiare la legge elettorale per avere una serie di altre conseguenze, dopodiché persin troppi giornalisti e anche i politici si sono esibiti su terreni scoscesi e sbagliati, cioè noi non siamo affatto né nella seconda, né nella terza repubblica, né in quella che io ospicherei, che è la quinta repubblica, ma continuiamo ad essere nella prima repubblica, ma l'abbiamo destabilizzata. L'abbiamo destabilizzata con le leggi elettorali, l'abbiamo destabilizzata per esempio con la incapacità di costruire partiti, perché è vero, e su questo sono d'accordo con il titolo di un importante libro di Pietro Scopola, che l'Italia è stata una repubblica dei partiti, poi dovremmo naturalmente decidere che cosa vuol dire dei partiti e andare a vedere che tipo di partiti, questo è un punto rilevante che è in parte tratto anche nel libro che insomma il Vico ha molto gentilmente citato. Quindi Draghi è in continuità, ma è in una continuità di crisi, che sia, non credo che sia questo il momento di valutare la sua opera già in confronto a quello che fece Dini, che in realtà era guidato sostanzialmente da Scalfaro, né di quello che fece Ciampi, che si appoggiava molto a quello che c'era ancora del partito, diciamo, democratici di sinistra e così via. Monti pensava di essere più bravo di tutti, non lo dimostrò in nessun modo, e Conte è quello che è, quindi non lo discuto. Draghi arriva probabilmente, come dire, senza eccessivi progetti, però anche senza, credo senza sufficiente capacità. Impara, impara anche perché ha le spalle coperte, perché dietro di lui c'è un uomo di grande esperienza, molto cauto, molto prudente, però che conosce la politica italiana, che è il Presidente Mattarella. In seguito Draghi credo che abbia imparato molte cose, purtroppo l'ultima cosa non l'ha imparata, ha commesso l'errore di dire che questo governo, con le Cinque Stelle, è l'ultimo governo, ed è il governo Draghi, non quello che succederà, sarà difficile naturalmente rimettere insieme i coci, che in realtà è una crisi che dal punto di vista tecnico non esiste, è una crisi politica creata dai politici, con le loro affermazioni, ma i voti non ci sono. Io mi auguro che Mattarella lo abbia detto a Draghi, quasi sicuramente, Craxi non avrebbe avuto bisogno di farsi dire nulla da nessuno, mi auguro che Mattarella lo abbia detto a Draghi, e che Draghi cerchi le modalità con le quali uscire da questo. Naturalmente anche in questo caso lo conosciamo, le conosciamo le modalità, cioè il Presidente della Repubblica rimanda il Presidente del Consiglio alle Camere che rivuotano la fiducia. Questo è il caso però di sottolineare questo punto rilevante, perché nelle democrazie parlamentari il criterio per la costruzione di un governo è che il governo deve avere la fiducia del Parlamento. Se volete, in alcune democrazie parlamentari non c'è neanche bisogno della fiducia, il governo non deve avere la sfiducia del Parlamento. In Norvegia non c'è un voto di fiducia, in Svezia non c'è un voto di fiducia, paradossalmente non c'è neanche un voto di fiducia, ma non è una democrazia parlamentare, in Francia, cioè in Francia è l'opposizione che deve sfiduciare il Primo Ministro, altrimenti il Primo Ministro entra in carica non appena è nominato dal Presidente della Repubblica. E quindi Draghi potrebbe, come dire, accettare questo, e naturalmente questo è rilevante politicamente, moltissimo perché significa anche avere lo slancio per portare a compimento la legislatura, che è quello che bisognerebbe fare naturalmente. Solo una considerazione per quello che riguarda gli altri paesi, cioè il paragone. Da quello che so, e credo di saperne abbastanza, spero a sufficienza, da quello che so, nelle democrazie parlamentari europee non c'è mai stato un capo di governo che non avesse una precedente esperienza politica. Potremmo forse dire che fu De Gaulle, però dire che De Gaulle non aveva esperienze politiche mi pare strano, e comunque era una democrazia che stava diventando semipresidenziale. Il caso che qualcuno cita di tanto in tanto del Ministro dell'Economia di Adenauer, Erhard, che diventa cancelliere, era stato Ministro dell'Economia, quindi aveva un'esperienza parlamentare. Invece nel caso italiano si arriva lì in qualche caso senza neanche essere membri del Parlamento, che è un problema, naturalmente. In Inghilterra non lo si potrebbe fare, non c'è la possibilità di un esterno al Parlamento che diventi capo del governo. Qualcuno fa il paragone con l'Inghilterra? Non va bene, naturalmente, perché il paragone in questo caso deve tenere conto del fatto che lì c'è un partito di maggioranza assoluta in Parlamento che quindi può cambiare il suo capo e automaticamente il nuovo capo diventa Primo Ministro. Non c'è bisogno d'altro, c'è bisogno semplicemente del riconoscimento della regina. Qui ai miei studenti di solito consigliamo di andare al cinema, perché spero che abbiate visto il film, che comunque vale la pena, The Queen, la regina non nomina Tony Blair e Tony Blair con la sua riluttante moglie Cherie che vanno a prendere il tè dalla regina e questo è il riconoscimento, che Tony Blair ha vinto le elezioni, ha una maggioranza assoluta in Parlamento e quindi è il Primo Ministro legittimo, ma è una visita di cortesia, fa parte di quell'apparato di simboli, di, come dire, anche di miti, se volete, che tiene in piedi la democrazia inglese, però questo è un punto assolutamente rilevante, contano i seggi in Parlamento e quando si perde la maggioranza ovviamente si perdono le cariche. Secondo punto di rilievo che credo sia da sottolineare, che siamo di fronte per la prima volta a un capo di governo che gode di una straordinaria popolarità, di uno straordinario prestigio, di una straordinaria autorità in sede europea, guadagnata attraverso le sue azioni, le sue riflessioni e quindi ha una rete di conoscenze personali che sono importantissime, molto di più di chiunque altro di quelli convenzionato, perché certo Ciampi acquisì notevole stima, in qualche modo Monti aveva fatto il commissario e quindi era sufficientemente noto, però dal punto di vista caratteriale, come sapete Monti, non è che sia particolarmente capace di intrattenere rapporti e quindi colui che davvero ha dei rapporti personali che vanno oltre qualsiasi altro tipo di considerazione, Draghi. Questo è un elemento importante perché la politica italiana ha bisogno dell'Europa, oserei dire anche che l'Europa ha bisogno dell'Italia, ma non di un'Italia che sia instabile, che sia un problema, l'Italia che sia un elemento di soluzione, di compartecipazione alla soluzione dei problemi. Però questo deve essere sottolineato perché il Presidente del Consiglio ha dimostrato di aver imparato delle cose in questo periodo, forse anche di avere messo la sua esperienza, la sua stessa persona al servizio del Paese. è entrato nella storia del Paese, però può, come dire, acquisire ancora una statura più elevata se riesce a fare quello che in realtà probabilmente si prometteva di fare, cioè il massimo uso nel miglior modo dei fondi europei. Cioè, se se ne andasse adesso, rinuncerebbe a questa operazione, che è un'operazione che può essere decisiva nel contesto italiano, anche perché nel frattempo la situazione economica e internazionale appare notevolmente deteriorata. Draghi ripetutamente ci ha detto di non preoccuparsi del suo futuro. Io vorrei preoccuparmi un attimo del suo passato, perché credo che l'errore sia stato quello di giocare male le carte per diventare Presidente della Repubblica. Credo che pensasse che dal Quedinale avrebbe avuto maggiore influenza sulle modalità con le quali i governi avrebbero trattato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Però non ha giocato bene le sue carte. Di certo, vuol dire, l'inesperienza politica non gli ha giovato. Forse non gli ha giovato neanche qualche ambizione aggiuntiva di Mattarella, quale certamente non è dispiaciuto essere rieletto. Adesso noi non dobbiamo preoccuparci di quello che farà Draghi quando non sarà più Presidente del Consiglio, tranne di un punto rilevante. dobbiamo pensare e sperare che Draghi non commetta l'errore, come si dice, di scendere in politica, che non ci sia un partito di Draghi guidato da Draghi, che mi parebbe non il modo per ristrutturare il sistema politico italiano. Qui si potrebbe anche fare una notazione relativa al fatto che per creare i partiti in una situazione italiana, ma non solo, oggi è un'operazione di enorme difficoltà, che infatti non sta riuscendo a Conte. Quello che vediamo sono l'unico partito organizzato sostanzialmente per il democratico. Però ci aggiungerei Fratelli d'Italia che è ancora, come dire, piantata su quelle strutture del movimento sociale che esistevano. Erano strutture spesso notabilari, spesso di figli dei nostalgici, spesso però di persone che facevano effettivamente politica, che fanno politica e che hanno anche una presenza nelle associazioni locali. Ecco, tutto questo non si crea da un momento all'altro e non potrebbe certamente essere draghi a farlo in questa fase. Sconsiglio, spero proprio che non ci pensi, credo, conoscendolo minimamente, che non ci stia pensando e comunque mi auguro che qualcuno lo dissuara. Qual è il problema adesso? Ne vedo due di problemi. Il primo è che, nonostante, qua è il caso di ricordarsi sempre le cose che vengono dette. Dice bene, c'è il governo Draghi, il governo governa e all'ombra del governo i partiti si ristrutturano, si ridefiniscono, si rivitalizzano. Non è stato così per niente. Cioè nessuno dei partiti si è ristrutturato effettivamente. Sono esattamente come erano quel giorno di febbraio in cui Draghi ne presiede il Consiglio. Non hanno in nessun modo approfittato della grande occasione per ristrutturarsi, cioè per creare presenze vere, qui devo usare la parola del politichese, presente vere sul territorio. No, sono come erano prima. Il PD è leggermente meglio di prima grazie all'impegno di Letta, ma non molto meglio. Quella è l'unica che è meglio di prima, ma non dipende dalla ristrutturazione e Giorgia Meloni, perché dipende naturalmente dal suo essere all'opposizione da un lato e dall'altro è davvero dimostrato di essere una politica più coerente, più competente, più capace e senza eccessi tranne quel discorso infernale che ha fatto al Comunio di Vox, preferibile a Salvini che è un Salvini di fronte che non ha mai risolto le sue contraddizioni e che giustamente perde voti. Allora, i partiti non si sono ristrutturati. Qualcuno potrebbe dire che questo è la più grande mancanza in questa fase. Sono gli stessi partiti del 2018 tranne il fatto che il Movimento 5 Stelle si è significativamente destrutturato e quasi esploso. Questo vuol dire che il Movimento 5 Stelle non ha capito nulla, non ha imparato nulla, non ha studiato per niente, si è goduto il suo successo, si è goduto le sue cariche ministeriali, ma non ha provveduto in nessun modo a costruire qualcosa di nuovo. Se non è davvero portatore di nuovo devono cercare di costruire qualcosa di nuovo. L'altro elemento di cui bisogna tenere conto secondo me è che in questa fase abbiamo però capito la portata della crisi e quindi abbiamo capito che ci sono degli interventi strutturali che devono essere effettuati comunque da chiunque, però non tutti. Qualcuno pensa che basterebbe cambiare governo perché tutto questo fosse seguito da cambiamenti significativi nella sfera economica e sociale. Naturalmente non è così, c'è l'opportunità, anche perché i fondi europei sono moltissimi, c'è l'opportunità, ma tutto sommato se quell'opportunità deve essere utilizzata al meglio da persone competenti attraverso un impegno che non è un impegno di 3, 6, 10 mesi, ma è un impegno che deve continuare per un periodo di tempo abbastanza lungo. da questo punto di vista certo si può pensare a un Draghi dopo Draghi dopo l'elezione del 2023, ma sarebbe un'operazione molto complicata che io non suggerirei perché in questo caso Draghi sarebbe più parte del problema di un sistema politico che non riesce a costruire una maggioranza politica intorno a un leader politico che parte della soluzione. Credo che neanche lui ci stia pensando quando ha detto che è in grado di trovarsi un lavoro da solo certamente non pensava ad un altro lavoro politico e eventualmente a qualche altro lavoro all'altissimo livello. Cioè qui scherzando potremmo dire che pensava magari diventare segretario generale delle Nazioni Unite anche perché è l'attuale che pure persone sufficientemente capace ha un mandato che sta per terminare. L'altro elemento che devo toccare perché è inevitabile riguarda naturalmente la riforma elettorale. Non entro in tutti i particolari lascio da parte tutti i giornalisti che dicono delle cose stupide che come dire appendono alla proporzionale degli aggettivi che non c'entrano niente. La proporzionale semplice la proporzionale pura come è naturalmente impura qualcuno addirittura ha arrivato a scrivere che i partiti pensano a una proporzionale a turno unico che è una bestialità colossale colossale impagabile. Qua il problema non è di sapere qualche cosa il problema è di studiare qualche cosa fino a che i giornalisti e i politici non lo studieranno avremo il tentativo di avere delle leggi elettorali che danno vantaggi a ciascuno di loro che vediamo nel breve tempo perché nel lungo periodo non danno nessun vantaggio. Ho detto ripetutamente con scarsissimo successo che il criterio dominante per una buona legge elettorale è dare potere agli elettori non potere ai dirigenti di partito di nominare i loro parlamentari non il potere ai dirigenti di corrente di scegliersi i seggi sicuri e così via ma potere agli elettori non stiamo andando in questa direzione devo dire però il punto rilevante sulla legge elettorale è che continua a esserci un numero cospicuo di parlamentari di politici e persino di giornalisti che pensano di risolvere i problemi della politica con la tecnica la tecnica non risolve i problemi della politica può aiutare può agevolare qualche volta può anche creare situazioni più complicate se si sbaglia la scelta tecnica però i problemi politici sono politici e quindi non possono che essere risolte attraverso una ristrutturazione del sistema partitico qui chiudo quasi nel senso che quando dico questo che i partiti italiani sostanzialmente sono spariti e comunque sono strutture deboli c'è sempre qualcuno come dice ma anche in Europa no non è così non è così è vero che ci sono situazioni in cui i partiti non sono forti il caso francese è tipico ma il caso francese è così perché De Gaulle ha voluto così dovevano essere le istituzioni e quindi il presidente è molto più forte dei partiti e quindi il Parlamento come parlamentari che rappresentano i loro collegi a essere più forti dei partiti anche in Spagna il partito socialista esiste ancora e non dimentichiamoci che esiste il partito popolare che continua a vincere elezioni in qua e in là e che ha una posizione notevole nel Parlamento in Germania i partiti ci sono in Svezia ci sono e così via in Gran Bretagna i partiti non sono affatto in crisi anzi continuano a controllare il sistema politico e quindi in realtà il problema è come ricostruire i partiti allora una legge elettorale buona dovrebbe naturalmente anche riuscire a dare un impulso alla costruzione di partiti cioè di organizzazioni come amo dire di uomini e donne che presentano candidati alle elezioni che ottengono voti e poi vincono cariche questo e che naturalmente collaborano in maniera leale cioè che hanno la capacità di dare una impressione ma anche la realtà di essere solidali e quindi di tradurre quello che hanno proposto agli elettori poi in politiche pubbliche non sta avvenendo nulla di tutto questo però e questa è davvero la mia chiusa è giusto criticare i politici è giusto criticare le leggi elettorali è giusto cercare anche delle soluzioni sperando che gli uomini e le donne in politica apprendano siano capaci di tradurre quello che apprendono in scelte però temo che il problema sia più profondo anche se qui credo che troverei in Sartorio un critico severo temo che il problema sia la società cioè che non è vero che i partiti non rappresentano la società italiana ahimè la rappresentano fin troppo bene e la società italiana è frammentata è molto divisa spesso è egoista incapace di produrre soluzioni durature attraverso collaborazione e quindi qui bisognerebbe che i partiti si ponessero il compito di ristrutturare anche la società di darle una maggiore una maggiore organizzazione di creare strutture capaci di esprimere al meglio le esigenze della società della società stessa nel suo insieme e vediamo questa frammentazione della società nelle proteste dei tassisti nelle proteste dei bagnini nelle proteste di varie categorie sociali di volta in volta e così via temo che dobbiamo fare i conti con una situazione molto più complessa una società non sufficientemente coesa e soprattutto priva di culture politiche se guardiamo ai paesi anglosassoni e quindi non solo la Gran Bretagna questa società esiste si organizza oserei dire che spesso è toquigliana quando c'è un problema i cittadini si organizzano e non si aspettano sempre la risposta da parte delle autorità se guardiamo ai paesi scandinavi le società sono molto più coese anche lì questo problema dobbiamo opporcelo non pensare che sia tutta colpa dei partiti ma certamente i partiti dovrebbero a loro volta cercare di riorganizzare la società e in coda aggiungerei che questo problema riguarda naturalmente anche i sindacati e i sindacati non possono chiamarsi fuori dalla crisi complessiva della società italiana grazie professore la ringrazio di cuore avrà naturalmente possibilità di replicare io le vorrò fare un paio di domande anche sui suoi incontri con Draghi in America che cita nella sua nella sua autobiografia ma direi allora seguendo il programma io darei la parola a Stefano Rolando con la preghiera di rimanere nei dieci minuti e poi prima di dare la parola alle altre persone previste se Ivana Trevisani che è l'unica donna presente fra di noi e che può rimanere fino alle 18 vuole fare un breve intervento ci farà molto piacere comunque do la parola a te Stefano e ti ringrazio so che è stata una giornata difficile per te ma ti ringrazio di essere di essere qui con noi che comunque serviva a digitare il Partito Democratico lo ha difeso una voce ma di fatto però in questo decreto è stato approvato un emendamento un problema di audio Piero sei capace non si sente niente provo adesso adesso funziona grazie Stefano allora ringrazio Bruno di darmi la parola e sono saluto Gianfranco Pasquino a cui mi lega lunga stima e vi chiedo anche scusa perché c'ho una una connessione instabile adesso sono accroccato con un telefono ma insomma vediamo di riuscire a comunicarci qualcosa io non ho gran titolo per stare diciamo nei nei binari molto interessanti su cui Gianfranco Pasquino ha posto il tema è vero che ripescando nel mio vissuto ho vissuto dall'interno diciamo del quadro istituzionale di governo dieci crisi di governo ogni volta con i problemi ogni volta con queste storie che riguardano il rapporto tra il politico e il personale in cui poi avere avere delle guide che tolgano dall'occasionalità e mettano queste queste crisi all'interno dei binari della storia aiuta aiuta molto perché tolgono di mezzo tutto ciò che nutre invece le pregevoli maratone che noi vediamo attorno a noi ma che sono un ansioso rincorrere le nuove dichiarazioni le nuove i nuovi silenzi che ne so gli sternuti del sistema mentre noi abbiamo bisogno e forse da questo punto di vista svolgiamo un compito di stare come Gianfranco ci ha aiutato a fare sulla carreggiata dei caratteri strutturali di questa crisi all'interno di quelle che lui ha chiamato degli elementi di continuità della prima repubblica naturalmente aggiungendo con la variante non da poco dell'aggettivo che ha usato e cioè di una prima repubblica destabilizzata cioè con il pilastro dei partiti che si è afflosciato parto anche da due spunti sulla politica l'operato e in generale insomma sulla il quadro la focalizzazione di una valutazione che uno scienziato politico può fare oltre che hanno diritto a farla adesso siamo in una fase in cui non ci sono più interpreti se non i giornalisti sono i giornalisti che organizzano altri giornalisti per interpretare gli eventi c'è una rarefazione di interpretazione impressionante che ci è stato i politici hanno rinunciato a interpretare per definizione i professori universitari sono un po' dei rompiballe perché intervengano sempre con degli approfondimenti sguardo al passato e questi media intanto hanno insofferenze anzi vengono sgridati a volte e quindi naturalmente può esserci che nel giudizio storico ci siano degli elementi anche di come dire un'ottica giornalistica cioè mettere in breve dei caratteri lui ha individuato una un elemento di forza e due elementi di debolezza l'elemento di forza che mi pare individuato è il più forte è quello di un'Italia che in tutto il quadro che stiamo attraversando dentro le crisi e le transizioni che stiamo attraversando mi avete perso? No, ti ascoltiamo però Ah, meno male l'Italia ha bisogno dell'Europa naturalmente è implicita l'aggiunta con i garanti giusti perché l'Italia che ha bisogno dell'Europa scalmanandosi o agitandosi o muovendo semplicemente degli auspici non serve all'Italia e non serve all'Europa servono i garanti giusti che conoscono linguaggi e procedure che consentano di avere un rapporto in questo momento con valore aggiunto con il quadro europeo gli elementi di debolezza che il professor Pasquino ha osservato sono il primo quello dell'imprudenza quello quello che ha iniziato la fase di crisi è il suo atteggiamento imprudente sulla vicenda delle elezioni al Quirinale non ci torno sopra tutti sappiamo i dettagli anche Gianfranco li ha un po' sorvolati ma sono elementi noti quello che riguarda più da vicino invece lo scatenarsi dell'ultima crisi è l'imprudenza sull'ultimatum che legherebbe la soluzione di questa crisi a un'ipotesi negativa è difficile immaginare con quell'ultimatum quella che una volta si era chiamata la sfiducia costruttiva ho l'impressione che la botta d'orgoglio sia forte e inevitabile e che di conseguenza fatico a pensare ma il colloquio non so come è andato perché non ho seguito gli ultimi minuti ma il colloquio col capo dello Stato forse ha rimesso in gioco uno spirito di servizio ma mi viene difficile da capire come Mario Draghi possa come si dice reggere la reggere alcuni mesi in cui partiti più di uno per la verità quindi non solo 5 Stelle hanno interesse a criticare o malmenare l'azione di governo per racimolare chi un punto sulla propria salvaguardia chi ha un punto per non cederlo ad altro chi ha un punto per mantenere valori in classifica insomma valori assolutamente insignificanti in questo momento per lo sforzo che il governo sta facendo io comunque da tutte le osservazioni anche quelle storiche quelle legate all'Europa la vicenda non ha niente da aggiungere niente da togliere ringrazio molto per questa cosa io provo a dire in pochi minuti uno cosa democrazia futura ha fatto all'inizio della crisi per interpretare diciamo a partire dal febbraio 2021 il rapporto tra la crisi della politica e dei partiti e come possiamo dire la dichiarazione ufficiale dell'emergenza quella che il Presidente della Repubblica ha fatto ha posto nel come dire potenziale contenimento della crisi e dell'emergenza della crisi e dell'emergenza nel nome di Mario Draghi avevamo parlato a quel tempo che questa corrispondenza del contenimento delle crisi era un inteso soggettivo dal punto di vista di Mario Draghi di una sorta di esprit repubblican che cos'era questo esprit repubblican tre paradigmi che dico in maniera raffica il primo era di mantenere il mantenimento diciamo internazionale della reputazione del paese che è un altro modo per parlare del rapporto l'Italia ha bisogno dell'Europa il secondo paradigma era le soluzioni concrete sulle tre crisi in atto contemporaneamente la pandemia la guerra non ancora però scusate non ancora la guerra e quindi il quadro diciamo geopolitico che poi avrebbe anche prodotto la guerra ma soprattutto la progettazione del finanziamento europeo e la relativa gestione delle procedure di programmazione e di messa in rete di messa a terra e di garanzia e di garanzia il terzo paradigma diciamolo così noi l'abbiamo anche un po' trattato in più di un articolo il coinvolgimento scusate la parola è impropria ma insomma terapeutico del quadro politico da intendere diciamo in due registri l'articolazione delle competenze il modo con cui Draghi ha affrontato l'organizzazione del gabinetto del ministero della compagine di governo l'ordinaria amministrazione affidata ai partiti le materie di transizione mantenute sotto suo controllo attraverso i tecnici ma la stimolazione chiamiamola etico parlamentare non uno sprezzo della politica non un atteggiamento sprezzante nel confronto della crisi dei partiti nessun escluso un tentativo di contaminazione con lo spirito etico di potere portare verso soluzioni di contaminazione migliorativa di ripensamento sulla capacità strategica delle forze politiche e quindi da questo punto di vista il tempo l'abbiamo chiamato anche in altro modo vedo Gianpaolo che nel suo giornale abbiamo chiamato pronto soccorso ma e questo era il terzo paradigma mi faccio osservare a Gianfranco Pasquino che lo sa benissimo che lui ha citato come primo della nuova filiera dei governi tecnici quello di Dini ecco fu quello che mi fece decidere a suo tempo di dimettermi e di cambiare vita e mestiere rispetto a dieci anni di presidenza del consiglio quando il presidente del consiglio in persona su delle proposte di iniziativa che avevano un minimo di carattere riformatore mi disse di persona io guardi le dico la verità non posso fare niente io mi ricordo di questa battuta che mi gelò e ragionai ma se un direttore generale si fa dire dal proprio primo ministro che non si può fare niente lui cosa ci sta a fare ecco mentre Dini aveva poi ha fatto cose ma aveva si proponeva per non per non fare niente non alterare il quadro Draghi ha un'agenda l'ha esposta ed è un'agenda del fare con due o tre elementi maiuscoli brevissimo abbiamo 15 mesi alle spalle del governo per parlare di una durata è una durata media che rispetto al quadro dell'Italia repubblicana è non tra le peggiori di conseguenza una valutazione di insieme può essere data ma l'osservazione che noi facciamo rispetto alle tre crisi che hanno giustificato l'emergenza è che le tre crisi non sono ancora in gestazione cioè nessuna è risolta anzi quella della guerra ha trasversalizzato per certi versi le altre e ha lasciato aperto i problemi per i quali la crisi dell'emergenza credo al Quirinale venga ancora giudicata tale e rispetto a quella la modalità di approccio non la immagino variabile e variata allora il ruolo del governo non è esaurito non è esaurito nemmeno quella quella cifra di esprit repubblican e in qualche modo si è aggravato dalla certezza che dati i caratteri di base di un paese che ha dato la maggioranza tre anni fa al populismo italiano senza batter ciglio ha ragione Gianfranco Pasquino che dice e poi c'è al pronto soccorso mica solo il quadro politico ma anche la società italiana che ha un analfabetismo vigoroso per il quale malinterpreta la storia e malinterpreta anche l'affidamento delle speranze e in certi momenti ha bisogno di un accompagnamento interpretativo del quadro di responsabilità che deriva a tutti dal capo dello Stato all'ultimo dei cittadini se c'è un ultimo nei cittadini che è una frase un po' pericolosa da dire io voglio aggiungere una cosa e poi chiudo segnalo che rispetto al problema governo sì governo no su cui siamo tutti tagliati dagli eventi e vedremo a minuti o entrosera il quadro che si sta profilando io ricordo che ci sono 117 nomine di primissimo ordine sul tavolo del governo da cui dipendono non solo le sorti dell'andamento dell'articolazione delle responsabilità del Ministero del Tesoro nell'economia ma anche gli esiti sostanziali di un paio delle crisi che abbiamo in corso ora è una partita che i partiti si possono permettere di lanciare al di là del traguardo elettorale io non credo proprio e non credo nemmeno che Draghi straveda per l'idea di mettere mano su questi dossier anche se anche se francamente un uomo della sua esperienza e della sua esperienza di potere sa perfettamente che cosa significa nell'affrontare quei dossier ma è un passaggio che è una quarta crisi per la situazione del paese noi dobbiamo considerare che tra la questa partita delle nomine e la legge di bilancio sono due partite che non permetterebbero di giocare con il sistema e hanno pochissime scelte a disposizione perché siano fatte nell'interesse del paese quindi il tema di oggi Draghi sì Draghi no traghettazione un carattere positivo per chi apre la crisi ma solo il rischio di sistema che ne viene fuori o una ricomposizione della base parlamentare è adesso sottoposto a delicatissime valutazioni che partano dalla capacità di resilienza e di resistenza di Mario Draghi e dalla possibilità che comunque il capo dello Stato ha in questo momento di orientare un contenimento della crisi ma non vedo come possa essere fatto se non anticipando le elezioni io mi fermerei qui ringraziando grazie Stefano sì perché hai superato il tempo ma magari ci sarà la possibilità di ritornare in una replica allora rapidamente prima di dare la parola a chi era previsto chiederei a Ivana se te la senti di rispondere a questa domanda il pronto soccorso può venire dal terzo settore tu hai l'esperienza diciamo di assistenza psicologica ma anche di integrazione culturale sei antropologa nelle comunità immigrate in particolare nel Bresciano ecco la frammentazione di cui ha parlato il professor Pasquino per il quale mi viene voglia di considerare di nuovo questo l'importanza di avere un altro centocinquantenario perché è fallito quello lì purtroppo forse a Torino ha funzionato ma il tema rifare gli italiani mi sembra di nuovo centrale e rifare anche gli europei naturalmente in questo l'anniversario di Mazzini ci sta bene ecco ma l'educazione nazionale in che misura Ivana può permettere di uscire da da questo scollamento di cui appunto la colpa è nella società non è solo dei partiti devo dire che per la mia esperienza personale recentemente ho partecipato domenica ad una manifestazione molto aperta con molte persone per una camminata riguardo ai depuratori che stanno avvelenando il Garda e da lì è nata proprio tutta una discussione su come poi ci siamo fermati e abbiamo fatto da Rivoltella dal porto di Rivoltella alla piazza di Desenzano ed è intervenuta anche una cittadina di Desenzano e io concordavo con lei sulla necessità di un risveglio della cittadinanza cioè dei cittadini perché io tra l'altro avevo parlato anche il giorno prima con un mio vicino di casa che è un ex maresciallo dell'aeronautica militare di Ghedi il quale mi parla sempre spesso di tutte le le truffe i giochi economici di potere che che vengono eseguiti e quindi nelle istituzioni per chi si rivolta non c'è proprio più possibilità di di fiducia quindi c'è da sperare che la gente si sveglie e si muova fortunatamente adesso potendolo fare perché c'è stato anche un blocco con la storia del covid rispetto alle alle riunioni alle manifestazioni per cui adesso si stanno queste qua si stanno risvegliando e infatti da qui adesso dal dai Comboniani sono arrivata tra poco inizieranno alle 6 partirà poi una biciclettata verso un altro paese e porteranno una una petizione firmata da chi viene e anche attraverso quel il quadratino con che è possibile fare con il cellulare e quindi mi sono resa conto adesso partecipando a ma in luoghi diversi dalla sanità all'immigrazione all'ecologia dell'ecologia del mondo del mondo nostro che le persone che partecipano cioè i cittadini e le cittadine che si sentono chiamati al risveglio partecipano direttamente alle richieste di modifiche cosa vuol dire scusa puoi spiegare meglio non saprei non so non ho capito cioè la domanda era se è la popolazione che si la popolazione si sta svegliando e si sta rendendo libera di muoversi e quindi di poter protestare di poter attivare delle azioni di modifica della situazione economico sociale ecologica abbastanza in crisi abbastanza parecchio in crisi bene Ivana senti io ti ringrazio molto poi dopo aver fatto questo giro darò un assist a Sodano perché a proposito di nuovi tentativi di mettere insieme le vecchie culture politiche con le nuove capire che cosa significa questi progetti di alleanze civiche che ha in testa fra l'altro con Stefano ma Stefano ha già parlato se siete d'accordo intanto grazie Ivana scusa se ti ho interrotto ma sto guardando il tempo è tiranno e effettivamente posso mandarti anche una cosa scritta rispetto alla posizione che io non condivido dell'aiuto dell'Europa all'Italia perché appunto conoscendo questa persona direttamente coinvolta mi diceva siamo gli zimbelli della Germania e della Francia e dal Ministero della difesa riescono a rilevare dei dati vabbè ti scriverò qualcosa va bene saluto e grazie scusa ci è eccetera ma insomma ecco almeno una piccola testimonianza di un rappresentante del mondo femminile ci siamo salvati lavati la coscienza allora gli ordini sarebbero Guido Barlozzetti Michele Mezza Massimiliano Malvicini Massimo De Angelis e poi un dibattito finale in cui insomma qui c'è dovrebbe arrivare Giampiero Piero Augusto e naturalmente anche Giacomo con poi la possibilità delle repliche ma appunto vorrei anche che Sodano che mi aveva scritto che non voleva intervenire ma io ho detto che eravamo una riunione familiare insomma ci farà davvero piacere intervenire allora vogliamo mantenere questo questo ordine o c'è qualcuno che ha richieste particolari di intervenire prima nessuno allora io darei darei la parola a Guido Barlozzetti chiedendogli sostanzialmente il suo titolo una meteora una cometa ecco oggi diciotto mesi dopo come lo vedi come il professor Pasquino Guido il microfono no microfono non ti si sente l'avevo tolto per non creare interferenze ovviamente grazie intanto c'è così di riprendere un po' quel filo prima però ascoltando un po' anche le considerazioni allarmate e preoccupate sullo stato della nostra società mi veniva da pensare ad alcune preminenze diciamo così del sistema mediatico in questi giorni e ad alcune concomitanze pensiamo all'incendio che ha oscurato il cielo della capitale che al tempo stesso però è stata attraversata da un dilemma drammatico che ha riguardato la separazione tra Totti e Ilari Blasi beh adesso io non voglio fare ovviamente il moralista non si tratta di mettere i pesi su una bilancia il sistema della comunicazione da anni sta andando verso una deriva cronachistica da questo punto di vista però se vogliamo anche capire certi umori della società e perché la società magari continuiamo ad aspettarci che si risvegli o che qualcuno la formi perché poi questi sono i dilemmi qualcuno un motore esterno che la rimette in moto la società che ha un soprassalto di consapevolezza e di responsabilità così chissà perché non lo so non lo so stiamo nel mezzo comunque comunque ci sono certi indicatori che ci dicono insomma che l'ordine delle la gerarchia delle rilevanze nel nostro paese è di un certo tipo e io gli darei un'occhiata insomma ogni tanto Draghi Meteora o cometa io penso che Draghi sia comunque una cometa ma cerco anche di spiegare perché anche osservando quello che sta accadendo in queste ore Draghi è stato sottolineato non fa parte del sistema diciamo così strutturale della politica del nostro paese si entra in questo sistema ne viene in qualche modo assunto come un corpo esterno che entra perché perché questo sistema da solo non ce la fa e quindi Draghi interviene sappiamo tutta la retorica con cui è stato accolto il salvatore del nostro paese il nocchiero che arriva con una grande esperienza e competenza un uomo dalle capacità straordinarie persino provvidenziali in certi momenti è sembrato questa è la retorica poi ovviamente i fatti vanno da un'altra parte ma questo non per dire che Draghi sia stato un meno capace perché dobbiamo sempre tenere presente che c'è sempre questa concomitanza tra le parole e la retorica che contraddistingue le parole allora detto questo perché comunque è una cometa perché se ci pensiamo bene in questa crisi che in questi momenti in questi minuti stiamo attraversando il punto di crisi da dove arriva arriva dal MoVimento 5 Stelle e il MoVimento 5 Stelle comunque si dia una valutazione sul piano politico è in ogni caso nel sistema politico italiano e nel sistema dei partiti un partito il cocervo nel senso che sta a metà strada irrisolta tra il dentro fuori del palazzo di tutte le formazioni che sostengono il governo è quella che sconta di più questo tipo di contraddizione allora qualunque sia la nostra valutazione sulle contorsioni del MoVimento 5 Stelle sul comportamento di Conte sulla responsabilità o meno che lui sente nei confronti del paese che sta attraversando un momento drammatico eccetera 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 comunque rimane che da questo che dal MoVimento 5 Stelle arriva un segnale e il segnale comunque quale che sia appunto la valutazione è che c'è un fuori della politica di cui bisognerebbe cominciare a tenere conto c'è un fuori della politica che è testimoniato anche dal fatto che fra poco il 50% degli italiani non va più a votare e questo mi pare un argomento abbastanza rilevante a questa osservazione aggiungo un'altra osservazione in continuità con una riflessione che faceva il professor Pasquina all'inizio del suo intervento sulla continuità della crisi Dini Monti fino a appunto a Conte anche per certi versi fino a Draghi ecco sono tutti governi che escono dalla tecnicalità istituzionale diciamo così sono governi tra virgolette eccezionali e allora Draghi da questo punto di vista è una cometa nel senso della continuità di questo perché pone questo problema comunque questo sistema politico evidentemente ha un problema strutturale di fondo se da tanti anni e in situazioni anche diverse però continua a doversi rivolgere ad un motore esterno ad un tra virgolette salvatore che interviene e attappa il buco nel quale si trova tenendo conto che poi di volta in volta il buco è sempre più largo perché nessuno lo risolve lo ripropone al successore ho l'impressione che in questo momento stiamo arrivando a cottura su questi due piani uno il rapporto con l'esterno al palazzo l'altro proprio con il sistema di generazione proprio della politica rispetto all'istituzione al meccanismo che governa il ricambio della politica rispetto alla società poi io nel mio piccolo ho cercato anche di capire in che modo appunto Draghi abbia affrontato il tema il problema della comunicazione oggi nel momento in cui ci troviamo questo potrebbe sembrare anche un ragionamento accessorio insomma non particolarmente rilevante devo dire che nel percorso che abbiamo osservato certamente Draghi ha acquisito una competenza politica scusatemi comunicazionale competenza politica non entro ovviamente e anche con episodi recenti che ne hanno dimostrato una particolare vitalità mi riferisco per esempio all'intervento che ha fatto nella scena dell'associazione della stampa estera che addirittura ha introdotto come una barzelletta evocando altri illustri raccontatori narratori di barzellette che fanno parte del nostro passato e presente politico mi riferisco per esempio ad una sua partecipazione ad una riunione di studenti di una scuola media nella quale si è lasciato andare ad tutta una serie di confessioni sul piano personale la famiglia la moglie gli insegnanti quindi come dire sicuramente anche le persone che gli stanno vicine hanno cercato ovviamente di aggiustare di assestare un profilo che forse era troppo istituzionale era troppo freddo hanno cercato di scaldarlo da questo punto di vista ma a questo punto sono tutte osservazioni ovviamente che possono contribuire ad arricchire un quadro di strategia di comunicazione che il presidente ha adottato di cui è stato soggetto e oggetto al tempo stesso in questo periodo però voglio aggiungere invece una considerazione di fondo al di là proprio degli aspetti anche effimeri episodici di contorno di emozionalità anche occasionale insomma se si guardano perché poi di questo noi dobbiamo alimentarci gli interventi che Draghi ha fatto basta andare sul sito della presidenza del consiglio li ritroviamo tutti da questo punto di vista è un archivio straordinario e quello che colpisce probabilmente non è solo un problema di Draghi in quanto tale è questa necessità di mantenere una sorta di aplomb istituzionale cioè Draghi in tutti gli interventi che ha fatto ha sottolineato sempre la forza del governo la tenuta del governo il lavoro che si compie la missione che sta procedendo eccetera eccetera in realtà tutto quello che e questo ci dice la forza è il limite però tremendo della comunicazione perché è vero oso mettermi nei panni di un presidente del consiglio sarebbe impensabile che il presidente del consiglio denunciasse le contraddizioni con cui ha a che fare quotidianamente ma noi che cerchiamo di osservare la comunicazione ci rendiamo conto di questo nella comunicazione nelle strategie di comunicazione è rimosso completamente o quasi se non strumentalmente il bec della politica il bec della politica non entra nella comunicazione se ci entra ci entra semplicemente perché in quel momento contingente il presidente del consiglio perché di lui stiamo parlando deve affrontare un particolare passaggio che però affronta sempre in termini positivi in termini di ricuscitura a meno che non esprima degli ultimatum come quelli che abbiamo osservato in questa ultimissima fase o per esempio lo scivolone che qualcuno ha ricordato e questo è uno scivolone che in qualche modo è sorprendente sulla presidenza della repubblica quando fece quella famosa osservazione in cui diceva sostanzialmente che il governo andava bene come andava e quindi poteva fare a meno anche di quel presidente del consiglio e quindi indirettamente si candidava alla presidenza della repubblica quello nella strategia della comunicazione e Draghi secondo me è uno scivolone perché porta dentro un elemento di deriva personale che ovviamente lo ha spiazzato come poi è accaduto nei fatti ma questo e chiudo a questo punto perché credo di avere detto abbastanza e non voglio ovviamente abusare del tempo mi pare una riflessione insomma da fare noi che ci occupiamo di comunicazione e che capiamo quanto la comunicazione sia importante rispetto anche al destino della nostra democrazia dobbiamo sempre secondo me tenere conto di questa apparenza nella quale sostanziale con la quale la comunicazione ci si offre ma dovremmo cominciare a pensare a come comunicare sulla comunicazione cioè a cercare di capire come il retroscena della comunicazione incide influenza condiziona profondamente l'apparenza con cui la comunicazione ci si dà altrimenti è una polemica vecchia di stare a qualche anno fa quando Platone i sofisti discutevano fra di loro saremmo sempre a quello stesso esatto punto grazie Guido abbiamo trovato un tema per il tuo prossimo articolo solo una battuta dieci secondi è plausibile con la clomb di Draghi che abbia detto mi sono rotto le scatole sì è plausibile ma fino non lo so a questo punto allora sì lo poni come tema lo poni come tema o poni la domanda c'è qualcuno che deve spegnere il microfono scusa Bruno concludi scusami ripeti ripeti no stavo dicendo lo poni come una domanda che mi fai in questo momento o come un tema è una domanda secondo te è plausibile che abbia detto mi sono rotto le scatole ma sinteticamente lo ha detto lo ha detto però anche questo non è che è una risposta non mi aspetterei da Draghi semplicemente una risposta del mi sono rotto le scatole probabilmente qui si misura anche una contraddizione di Draghi una contraddizione profonda in questo caso al di là della battuta che tu sinteticamente hai ricordato e cioè il fatto che lui entra nella politica in un certo modo e questa questo modo di entrare nella politica pesa sul modo in cui lui ovviamente ha governato e le contraddizioni di fronte alle quali si trova ovviamente le conosce benissimo sono contraddizioni strutturali però non sono contraddizioni solo personali del fatto mi rompo meno le scatole c'era da aspettarselo che ci fosse comunque un cortocircuito che riproponesse la risosità la frammentazione del sistema politico tanto più con una scadenza ravvicinatissima quale comunque saranno le elezioni quindi da questo punto di vista il mi sono rotto le scatole sarebbe una deludente risposta da parte di Draghi grazie Michele secondo te come dice il professor Pasquino Draghi aspira a fare il segretario generale delle Nazioni Unite o come hai scritto nel tuo articolo vuole andare alla Nato ma ovviamente vedremo io credo scusami Michele hai in sottofondo Bekis che non so quanto io addirittura allora aspettate che chiudo perché i problemi dei webinar ma effettivamente la voce di sondo è fastidiosa però per il resto funziona vai Michele eccomi no devo confessare che il sottofondo è giustificato dal fatto che io avevo un orecchio sullo speciale di Mentana anche perché non so se sono fuoviligna anche su questo io penso che quello che stia accadendo in queste ore in questi minuti cambia molto l'oggetto della nostra discussione ma proprio molto cioè fra quattro ore noi avremo un Draghi radicalmente diverso o in una direzione o nell'altra questo è fortidubbio per cui non credo che agli Stovici non gli importerà nulla io credo che gli Stovici in questo momento carta, penna e calamaio stanno proprio attenti alle sfumature alle battute tra l'altro a proposito di battuta lui non ha detto mi sono rotto le scatole ma ne ho piene le tasche che essendo un banchiere è sempre attento a quello che è nelle tasche più che ad altri organi più in basso ma io più che sul futuro di Draghi che si sta decidendo adesso è che lui non uscirà come ombre verticale da questa vicenda o da una parte o dall'altra avrà ammaccature ma la cosa che mi interessa è un po' il ragionamento che faceva il professor Pasquino io ultimo della fila mi permetto di segnalare un mio diverso approccio perché io non sono di quella scuola di pensiero per cui i partiti sono i partiti io penso sempre di più di questi tempi che i partiti siano la conseguenza più indotta delle relazioni sociali e non gli organizzatori e gli ordinatori io ho questa impronta tra l'altro vengo da una scuola politica che considerava la sociologia poco più di un crimine ricordo che Lucas sosteneva in una straordinaria intervista a Ferrarotti alla fine degli anni 50 che un rivoluzionario di professione non si faceva condizionare dai fatti sociali e Ferrarotti gli faceva capire che se non ti fai condizionare dai fatti vai a sbattere come è accaduto vedo però che c'è una tendenza lucasciana che si diffonde cioè quella di tralasciare una dimensione diciamo di magma sociale e pensare che delle intelligenze politologiche possano mettere ordine organizzando in maniera più sofisticata la macchina politica io non penso che sia così penso che quanto sta accadendo ha una attinenza molto stretta con processi sociali lunghi che come diceva Bauman ci fanno passare da lavoro di massa consumo di massa media di massa a lavoro individuale consumo personalizzato media on demand questo significa proprio che cambia radicalmente il gioco delle rappresentanze politiche in base allo sfarinamento delle basi sociali e dei conflitti sociali che i partiti rappresentano e mediano per cui non è un caso che oggi noi abbiamo davanti uno scenario devo considerare che finora nessuno ha citato ha pronunciato neanche la parola America nessuno finora in tutto l'insieme dei ragionamenti che ho sentito penso che quella sia una delle matrici dello sconvolgimento dell'Occidente quanto sta accadendo in America con una separazione radicale tra conflitto sociale e sistema istituzionale che sta mettendo per la prima volta in discussione seria persino il patto confederale bene è una cosa che dovremmo seguire perché ci parla molto da vicino e la guerra ne è un fondamento io in pochi minuti devo parlare a slogan anche perché so solo fare quello io penso che le crisi che stiamo vivendo sono crisi della guerra sono crisi di una guerra che vede riorganizzare la contrapposizione politica tra un'area di sovversivismo dei ceti medi che vede l'opzione putiniana come il più sistematico organizzato attacco alla democrazia rappresentativa e un'area molto fragile molto debole di sostegno a una contrapposizione all'attacco e all'aggressione russa quello che sta avvenendo in Inghilterra quello che è avvenuto in Francia quello che sta avvenendo in Italia quello che comincia a serpezzare in Germania io penso sia l'onda lunga di un distacco di un centro che non è più il luogo del moderatismo silenzioso ma di uno sguaiato radicalizzazione di ceti corporativi che combinano io dicevo sempre usando uno slogan no vax no tax no pax questo è un nuovo fronte politico che sta riorganizzando il ceto e sta togliendo al draghismo una base di consenso su cui quella opzione tecnocratica contava ma dicevo questo è un'onda viene molto lontano oggi la scomparsa di Eugenio Scalfavi mi dà il destro insieme alla recente scomparsa di Angelo Guglielmi di individuare in quei due personaggi due pionieri della sostituzione del sistema dei partiti col sistema mediatico Guglielmi e Scalfavi sono stati due protagonisti che hanno percepito io voglio immaginare non so con quanto lucida consapevolezza come il sistema dei partiti non fosse più in grado di attivare e rappresentare processi sociali mentre il sistema mediatico l'articolazione del sistema sia televisivo che giornalistico per larga parte è stato supplente di quella debolezza che via via è diventato vera e propria disarticolazione ecco io penso che questo processo Draghi in qualche modo va a colmare e lo va a colmare però con una differenza io leggo rispetto ad alcuni precedenti sia Vini che Ciampi su versanti diverse Draghi è l'uomo che arriva sicuro di poter gestire con la paura della crisi finanziaria un fenomeno che ci portò Monti quando venne disarcianato Berlusconi nel 2011 e a ingessare il dibattito politico per portarci a un quadro che avrebbe attraversato le elezioni anzi reso le elezioni una variabile ed è tutta irrilevante per solo modificare una composizione parlamentare di un governo che si sapeva doveva rimanere quello ecco io credo che questa dinamica non trova non trova sostegno e non trova sostegno per la debolezza del suo motore che era un motore atlantico e da qui l'atlantismo esasperato e tenace e perseverante di Draghi è uscito un libro molto interessante di Antonio Maria Costa che è il segretario generale della Banca degli Investimenti ex già vice segretario generale delle Nazioni Unite un diplomatico italiano di lunga carriera Stefano probabilmente l'avrà incrociato che ricostruisce la fase dei primi giorni della guerra e rivela come Draghi e la Yellen Janet Yellen dal 23 febbraio il giorno prima dell'invasione fino al 28 febbraio insieme hanno costruito il sistema delle sanzioni il sistema modulari delle sanzioni Draghi è stato lo scerpa dell'atlantismo economico e dicendo che poi il sistema politico italiano come l'intendenza napoleonica comunque doveva seguire ecco lì si crea una rottura però in parte qualcuno ha detto anche un'incapacità nella mediazione nella scarsa flessibilità che si era assicurato nell'operazione Presidente della Repubblica andata male ecco ma il punto vero io lo leggo in questa scommessa americana che coincide con il momento di massima debolezza della leadership atlantica e statunitense e noi abbiamo una situazione davvero disperante con una presidenza Biden che giorno dopo giorno si sta trascinando senza riconoscimento neanche nel proprio campo con una rancorosa offensiva della destra trampiana con o senza Trump che sta cingendo d'assedio in maniera politica oltre che averlo fatto fisicamente il 6 gennaio il Campidogno ecco io credo che lo scenario è questo in questo scenario vedo e chiudo un quadro politico con un centro-sinistra ormai azzoppato e isolato con un campo largo che è diventato un orticello in cui a malapena ci potrebbe stare una quercia e il resto un campo di una destra varia che si riorganizzerà in base all'opzione legata alla guerra tra una destra atlantista e una destra neozarista e putiniana ecco in questo quadro è chiaro che Draghi fino a stamattina rappresentava l'opzione di massima sinistra disponibile sul campo oggi abbiamo un quadro assolutamente disarcionato in cui probabilmente immagino il PD ed intorni cercheranno di ingessare con Mattarella la situazione rendendo indifferente i balzi d'umore di quello che rimane dei 5 Stelle ma certo il buco difficilmente potrà essere rattoppato in questo modo la campagna elettorale è iniziata e lì probabilmente il gioco è che se non si cambia come io penso la legge elettorale si cambieranno le alleanze politiche e la scommessa sarà nel ridisegno di un accordi diversi chiudo con un'ultima considerazione qualcuno citava il silenzio totale della componente sociale cioè non solo i sindacati ma non c'è dinamismo ieri l'incontro col presidente di Confindustria sul tema del salavio minimo è stata una penosa scena muta di reciproca commiserazione ognuno per i guai dell'altro ecco questo silenzio della società della dinamica sociale oppressa da processi di automatizzazione subiti in maniera passiva io cito un argomento che mi rendo conto in questo quadro può suscitare hilarità ma mentre si sta consumando la crisi di governo questo governo sta decidendo la più grande svolta tecnologica dei prossimi vent'anni di questo paese cioè l'appalto dell'infrastruttura di memoria cioè del cloud nazionale in cui confluiranno i dati della pubblica amministrazione e i dati sanitari di tutti gli italiani a un sistema che sarà gestito a mezzadria da Google e Amazon io senza che nessuno abbia sollevato la minima eccezione la minima osservazione la richiesta di una quarto d'ora di discussione in Parlamento che non si nega neanche all'agricoltura biodinamica ti posso interrompere ti chiedo scusa ma vorrei dare la parola anche per i tempi però anch'io il mio ruolo è quello di chiederti su questo un jacuzzi nella migliore tradizione del giornalismo di isolare fai un articolo su questo subito anche domani te lo pubblichiamo che si deve fare per conquistare un posto al sole vedete nel frattempo Barberio ci ha raggiunto diamo adesso la parola e gli daremo la parola insieme a Giacomo nella parte finale prima delle repliche del professor Pasquino adesso diamo la parola a una persona che ha collaborato con la rivista e siamo veramente contenti perché ci siamo poco confrontati con le giovani generazioni ebbene fra le giovani generazioni ci sono degli studiosi molto tradizionali per certi versi molto rigorosi come il professore Malvicini chiedo a Massimiliano di presentarsi un attimo ci aveva scritto un bel la voce semestre bianco e adesso ha fatto appunto come citavo all'inizio una bella recensione del volume del professor Pasquino Massimiliano grazie grazie sono Malico io ringrazio lei ringrazio il professor Pasquino per l'introduzione anche tutti coloro che hanno parlato prima di me io sono professore a contratto di diritto pubblico all'università di Torino all'università del Piemonte Orientale diciamo a me l'ingrato compito di analizzare un po' la vicenda del governo Draghi in ottica retrospettica con la lente un po' del costituzionalismo su questo aspetto vi tengo pochi minuti anche perché le considerazioni conviene a questo punto anche alla luce della crisi di governo darli in modo un po' impressionistico ancorché per quanto possibile è completo dunque il governo Draghi nasce lo sappiamo tutti per risolvere due grandi problemi cioè il problema delle vaccinazioni quindi la risoluzione della crisi epidemiologica e le soluzioni di implementazione di quello che poi è diventato il piano nazionale di ripresa e resilienza ora il governo Draghi è senz'altro un governo che nasce sotto la tutela del presidente della repubblica è però un governo che non è un governo tecnico come è stato detto molto chiaramente da chi mi ha preceduto è senz'altro un governo politico con una componente tecnica però posta nei punti focali in alcuni punti centrali dei gangli dell'organizzazione diciamo dell'apparato esecutivo questo non a caso perché il governo Draghi si sviluppa e in realtà prosegue da 15 mesi con un indirizzo politico che in parte è etero determinato che è l'indirizzo politico delle emissioni del piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi questo occorre dirlo ed è uno dei presupposti anche per la nascita del governo Draghi ora ciò posto il governo Draghi benché sia stato anche un po' definito nel dibattito pubblico come un governo del tutto differente dal governo Conte 2 dall'esperienza dell'esecutivo che l'ha preceduto in realtà ha molti punti di convergenza con il governo Conte 2 sia da punto di vista organizzativo sia come vedremo da punto di vista della funzionalità e dell'atteggiamento in primis con il Parlamento dunque il governo Draghi è un governo senz'altro politico perché vabbè sono più o meno una decina le figure che sono classificabili come indipendenti politiche che dir si voglia ma anche tra queste almeno quattro avevano già ricoperto incarichi politici Luciano Allamorghese Enrico Giovannini Patrizio Bianchi e Valentina Vezzali a diverso titolo tutti però con un minimo di esperienza politica più in generale però sono 34 i componenti dell'esecutivo Draghi con precedenti esperienze e di governo e la cosa interessante da notare è che è il Movimento 5 Stelle ad avere il maggior numero di esponenti con alle spalle almeno un'esperienza di governo 10 su 15 al secondo posto di La Lega e subito dietro il Partito Democratico ora ci sono all'interno della compaggia governativa anche soggetti che hanno un'esperienza di governo di lungo corso Dario Franceschini ha fatto parte di sette governi ad esempio però non è non è diciamo l'unico l'unico punto diciamo indicativo dell'expertisa almeno politica dell'esecutivo Draghi più in generale sono almeno due terzi quindi la maggioranza i soggetti dell'esecutivo Draghi che sono espressione del Parlamento cioè che sono parlamentari e questo è un altro elemento che ci conferma la politicità di questo esecutivo un elemento interessante è che i partiti politici portano all'interno dell'esecutivo Draghi una differente competenza rispetto alla politica locale qui è la Lega che la fa un po' da padrona perché tutti gli esponenti al governo Draghi della Lega hanno un'esperienza politica nei governi locali mentre invece il governo scusate il Movimento 5 Stelle è il soggetto partitico che dimostra ancora una volta un limitatissimo radicamento territoriale e questo non è un elemento non diciamo non da tenere sotto traccia anche per quanto riguarda le vicende dell'attuale crisi politica e qui mi piace un po' ricordare anche l'articolo di ieri del professor Pasquino su domani cambiare ora conducente stupido è costoso senz'altro la crisi di governo e la possibilità di far cadere questo governo e diciamo aprire tutto procedimento per un nuovo esecutivo porta senz'altro dei costi e porta anche un'incertezza un'incertezza legata alle possibilità strategiche di determinare le politiche su alcuni di casteri mediante non solo la nomina di ministri viceministri sottosegretari ma anche di influenzare tramite attività di lobbying proprio alcuni aspetti cruciali di quell'indirizzo politico pur in parte etero determinato quindi su questo occorre anche fare una riflessione la nuova componente che nasce dal Movimento 5 Stelle il soggetto che aveva più personale politico in questo governo è posto di fronte a una grande scelta rimanere in questa compaggia governativa e cercare di rafforzarsi dal governo utilizzando le risorse che ci sono sulle politiche pubbliche oppure tentare il salto elettorale su questo diciamo ci sarebbe molto a dare e questo è l'aspetto organizzativo il governo Draghi però conferma da diversi punti di vista una continuità sotto profilo funzionale e la conferma sotto profilo della gestione dell'emergenza Covid dove senz'altro si è detto più volte che il governo Draghi è stato più rispettoso dei paletti costituzionali poste presidio della libertà di circolazione e di salute in realtà il governo Draghi ha giovato del cambiamento di governance e della razionalizzazione del sistema delle zone rosse zone gialle zone arancioni tutte misure che in realtà si sono incardinate in decreti legge che sono state approvati dal governo Conte nel 2020 e quindi semplicemente è stata una razionalizzazione di quei meccanismi altri esempi la gestione dell'emergenza migranti di nuovo un massiccio ricorso al potere di ordinanza della protezione civile e in questo lo colloca di nuovo nell'albero dell'esperienza del governo Conte II altro elemento che conferma un po' le linee di continuità la centralizzazione nel controllo politico del piano nazionale ripresa e resilienza il governo Conte II è stato attaccato nelle sue ultime battute soprattutto dagli esponenti di Italia Vive e da Matteo Renzi per una per il tentativo di centralizzare la gestione del piano mediante quella task force dei manager e così via in realtà noi sappiamo che a gestire PNRR vi è una cabina di regia incardinata all'interno della presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF ha la centralizzazione del controllo invece economico finanziario quindi continuità nella governance anche del PNRR e continuità anche nella governance del PNRR rispetto al Parlamento qui il governo Draghi è il primo esecutivo come statistica a utilizzare la questione di fiducia ancora più del governo Renzi ancora più del governo Gentiloni e così via vi è anche diciamo qui un ragionamento che adesso non abbiamo tempo di approfondire però che è legato a quale strumento utilizzare per la realizzazione degli obiettivi del PNRR e qui vi è l'utilizzo senz'altro del decreto legge in modo massiccio vi è anche la difficoltà del Parlamento a stare dietro posto che come ci insegna il professor Pasquino il Parlamento non deve o meglio non è il suo primo obiettivo quello di legiferare o quello di governare quello di rappresentare però vi è un'evidente difficoltà del Parlamento anche a rappresentare a porre al governo alcune questioni se i DL devono essere fatti sotto dettatura da parte diciamo della Commissione Europea da parte degli obiettivi stabiliti all'inizio del 2021 sul PNRR vi è però anche da fare un ragionamento diciamo a latere e è vero che il governo Draghi è il governo delle riforme istituzionali e l'esecutivo che forse più di altri ha legato la sua esistenza al tema del riformismo istituzionale forse anche per il desiderio di Draghi di provare la corsa al Quirinale non è però un governo che si è battuto in prima persona per le riforme costituzionali invece che sono state approvate a partire dal 2021 in questo la riduzione dei numeri parlamentari la riforma dell'elettorato attivo e la riforma di articoli 9 e 41 della Costituzione sono state riforme che sono state approvate mediante quel metodo riformistico proposto dal contratto per gli italiani diciamo scusate l'ossus contratto per il governo del cambiamento all'inizio della legislatura quindi con un riformismo puntuale essenziale in questo differenziandosi con i grandi progetti di riforma del 2016 riprendendo qui invece le riforme del 2011 e 2012 quello su pareggio equilibrio di bilancio sono però riforme che sono state approvate su iniziativa del Parlamento potremmo dire e questo è uno spazio residuale che è rimasto al Parlamento e qui forse Draghi non ha voluto metterci la faccia per evitare in qualche modo di rompere la sua immagine anche di possibile garante di quell'indirizzo politico-postituzionale che si confa al ruolo del Capo dello Stato io mi taccio e ascolto il dibattito la ringrazio perché le stavo chiedendo due minuti Massimo direttamente se puoi presentare anche il tema del seminario che abbiamo in mente in autunno partendo naturalmente dalle considerazioni su Draghi però ti chiederei anche di fare questo sforzo sui partiti politici guarda dunque io diciamo sono sostanzialmente innanzitutto sono d'accordo sul fatto che probabilmente questo dibattito va messo in connessione anche alla questione guerra sulla quale diciamo è difficile dire come andrà a finire ma è facile fare però una previsione che conta poi sulle previsioni che si possono fare riguardo all'Italia e cioè che l'Europa pagherà il prezzo più caro l'Europa è messa in mezzo da questa guerra per motivi oggettivi e forse non solo oggettivi la Russia probabilmente non ne uscirà molto bene ne usciranno ne uscirà sicuramente bene gli Stati Uniti e la nuova alleanza degli Stati Uniti da tempo stanno configurando quella dei Five Eyes che poi mirano a portare il baricentro ancora più di quanto non sia dall'Europa al Pacifico e la Cina ne uscirà sicuramente bene ma non avrà in retroterra o perlomeno non potrà contare su retroterra in gran forma continentale cioè europeo perché quello lì appunto è stato terremotato quindi però la questione essenziale è che l'Europa ne uscirà malissimo e questo peserà io sono ecco volevo dire sono sostanzialmente d'accordo con l'analisi di fondo che ha fatto Gianfranco Pasquino e cioè sul fatto che Draghi non è una cometa mi pare che le osservazioni sono state fatte anche in seguito in qualche modo lo confermino così come prevedi come era Bruno tu lo sai del tutto da me da tempo previsto non la situazione è di una democrazia sospesa in cui i partiti che sono messi da canto e quasi sbeffeggiati non hanno nessuna non avevano e non hanno nessuna possibilità di rinascita e di ristrutturazione penso anche d'altra parte su questo forse ho ancora meno speranze di Pasquino che la democrazia dei partiti sia già defunta da tempo e non possa essere riesumata e comunque questa legislatura e la volontà di Mattarella di diciamo Coriacea di portarla avanti sino in fondo sia la pietra tombale su qualsiasi ipotesi di rinascita di una democrazia dei partiti ma non ne ho particolare nostalgia condivido peraltro il discorso invece che da tempo Gianfranco fa e io sono sempre stato d'accordo sulla sul dare il potere agli elettori e quindi per esempio riforme elettorali che abbiano sempre attenzione ai collegi uniluminali e se possibili piccoli e non ai listoni e però in conclusione diciamo vista la crisi dei partiti visto tutto e visto quello che dirò adesso fra breve credo che l'unica soluzione per dare davvero potere agli elettori sia a questo punto una soluzione presidenziale presidenzialista non vedo davvero con tutti i rischi perché li vedo ben presenti una soluzione presidenzialistica questo perché appunto quello che comunque va affrontato vale in molti paesi d'Europa ma da noi ancora di più bisogna riaccendere un meccanismo di rappresentanza perché noi abbiamo puntato tutto sulla governabilità sull'emergenza sulle cose abbiamo avuto governi tecnici a non finire ormai gente che è nata 15 anni fa non ha idea di che cosa significhi perché si debba andare a votare ecco qual è il senso dell'andare a votare quindi l'astenzionismo cresce bisogna che i cittadini possano andare a votare e sapere che eleggono i loro i loro rappresentanti a livello locale e poi il capo di governo a livello nazionale con assoluta certezza perché questa è la condizione minima ecco per riaccendere il meccanismo questo è una riflessione diciamo sullo stato delle cose non mi soffermo sull'esito della crisi penso che qualcosa si riappattumerà ma insomma non credo che avremo una cosa epocale in questo prossimo semestre io vorrei soffermarmi ecco sul punto che può essere diciamo come dicevi tu il nocciolo di una riflessione da fare anche in seguito e cioè quella che io diciamo già dicevo dopo l'Afghanistan dopo il ritiro all'Afghanistan che era si era esaurita la spinta propulsiva della liberal democrazia era un'immagine però credo che colga un punto perché perché cosa sta avvenendo noi stiamo avendo stiamo vivendo una fondamentale ai crisi della democrazia in occidente inutile nascondere e quindi a questo livello che dobbiamo proporci perché le soluzioni istituzionali hanno sì possono essere pannicelli o comunque cure eccetera ma non risolvono questa malattia e perché stiamo arrivando a un esaurimento perché si stanno ecco io la metterei così per andare in pochi minuti insomma a descrivere la situazione e le questioni stiamo stiamo assistendo da diverso tempo ormai a livello molto intenso sul piano come dire direi filosofico alla separazione tra il momento liberale liberale liberista e il momento democratico anche la polemica che si fa le autocrazie eccetera non c'è dubbio che non siano sistemi quelli non occidentali che sono diciamo attraenti però un punto è vero che noi non possiamo contestare come ha fatto anche in modo sprovveduto fra l'altro su un argomento del cavolo Draghi Erdogan e c'è con cui poi bisogna avere anche a che fare come autocrazie o dittatori no lui disse dittatori perché autocrazie magari ci possono dire dittatori eccetera non è vero sono cos'è che le rende per noi inaccettabili compreso anche Orbán per dirne una cos'è che le rende inaccettabili il fatto che non esiste il momento liberale nel senso che la separazione dei poteri il potere giudiziario e tante altre forme di libertà sono in qualche modo dimediate e compresse ma non vedo motivo per dire che non sono regimi alcuni la maggior parte di loro democratici io ho partecipato a diverse commissioni che facevano che andavano a vedere i risultati elettorali in Ucraina piuttosto che in Turchia piuttosto che in Russia o anche in America ebbene tutto sommato forse c'era qualche pelino più da vedere in America che non in altri paesi quindi non è che la democrazia possa essere messa più che tanto in discussione rispetto a come è ridotta fra l'altro anche da noi il problema è il regime liberale però qual è il punto qual è il punto che appunto in Occidente il meccanismo che rendeva prezioso diciamo i nostri sistemi era la congiunzione tra liberalismo e democrazia in Occidente abbiamo avuto il processo opposto in questi in questi vent'anni e cioè il liberalismo divenuto liberismo molto acceso sta divorando e consumando la democrazia questo qui in qualche modo anche se in modo molto prudente ma è costretto a dirlo anche Fukuyama nel suo ultimo libro e insomma la grande spinta di un'economia liberista che ha creato disuguaglianze delocalizzazioni eccetera da un lato la flessibilità ridotta all'estremo che ha prodotto precarietà una una immigrazione in qualche modo fuori controllo perché non appunto perché non culturalmente governata ma innanzitutto una cultura che appunto fa della libertà il criterio unico di valore per cui la società va avanti nella misura in cui garantisce sempre più agli individui di essere di poter fare le scelte che vogliono il tema di una connessione tra queste bene comune di una di riuscire a tenere insieme libertà e interesse generale questo qui è fuori agenda da ormai da 10-15 anni non se ne parla più si devono poi far tornare i conti ma il criterio di valore il criterio di una libertà del tutto sganciata questo qui appunto Fukuyama lo racconta in modo abbastanza interessante e può essere quindi ripreso tutto ciò ha portato appunto come dicevo prima all'erosione allo svuotamento del soggetto che dovrebbe essere cardine della democrazia cioè il popolo il popolo come soggetto di democrazia perché oggi il popolo come tale e tutte le sue varie articolazioni corpi intermedi a partire dico io dalla dimensione della famiglia eccetera tutto ciò è venuto meno questo spiega quello e diciamo secondo me può dare spiegazione anche all'inquietudine di Pasquino quando dice c'è una società che però è quel che è la società è sempre quel che è e la politica deve trarne il meglio però è vero che una serie di scelte politiche culturali di questi e sostanzialmente una filosofia che si è affermata in occidente ha portato alla disgregazione di quella che De Giovanni definisce una società omogenea ha fatto prevalere semmai quella che Tony Negri definisce una moltitudine allora quando hai la moltitudine hai una serie di individui in lotta per affermare le loro esigenze a prescindere da quelle degli altri tutto ciò appunto ha radici filosofiche di fondo a me ha colpito un esempio che spiega però questo aspetto filosofico un esempio che cita Fukuyama dice secondo il pensiero di John Rawls tra una per tra un giovane figlio di papà sta tutto il giorno al divano a chattare e a compulsare digitale a vedere film e una ragazza che invece studia e lavora per mantenere sua madre non c'è sul piano di valore dal punto di vista di un pensiero strettamente liberale nessuna differenza perché l'importante è non far male al prossimo e di realizzare le proprie intenzioni quindi è sullo stesso piano però questo sul piano come dire della tenuta di un etos pubblico e di una appunto di un senso di comunità e quindi poi alla fine di un popolo diciamo che si riconosce in alcuni elementi beh fa tutta la differenza di questo mondo allora noi stiamo appunto siamo entrati in una situazione in cui la composizione sociale si è disgregata quindi sono d'accordo con quello che dice Gianfranco ma va appunto va visti in questa chiave e allora l'ultimo punto il governo lo stesso governo Draghi è vero che appunto io non lo vedo come una cometa forse neanche però come una meteora perché è l'espressione più sintomatica di qualcosa che aveva i suoi precedenti nei vari monti dini eccetera e che fa parte di un governo delle elite tecnocratico finanziaria eccetera che diciamo da noi conosce una dimensione più evidente perché siamo più diciamo in qualche modo vincolati da altri poteri europei per i motivi che sappiamo mi immagino che se adesso Draghi era segnale di missioni si urlerà lo spread che già adesso comunque Draghi presente è 220 ma improvvisamente diventerà inarrestabile quindi clima di nuovo di emergenza allora tutto questo però diciamo non lo risolvi con pezze come si è pensato di fare né con Monti né con Draghi né con altri c'è bisogno di una leadership che sia in grado se lo è di prendere in mano il paese e di guidarlo quindi io penso una soluzione istituzionalmente solida e poi vedere che cosa che cosa può venire fuori però appunto ripeto la situazione attuale questo è tema di riflessione che c'è questo governo dell'elite il populismo è stato e rimane un contrappasso rispetto a questo governo dell'elite perché una dimensione popolare che si è totalmente frantumata e che non ha oltretutto possibilità di essere rappresentata non può far altro che far fiammate populiste quindi stiamo attenti perché appunto come si diceva siamo già al 50% di astensionismo questo astensionismo può poi prendere le forme che prende ecco però non è che come dire dando addosso ai populisti si risolve il problema bisogna vedere perché c'è il populismo e però ripeto si però al fondo io credo che la questione è da prendere sia da affrontare sia questa della crisi sostanziale della liberal democrazia e questa scissione di fondo tra il momento liberal liberista e momento democratico grazie massimo allora io avevo promesso al professor Pasquino che fra un minuto lui trese le conclusioni gli chiederei di aspettare cinque minuti chiederei a tre giornalisti e a un ingegnere di fare una domanda telegramma per il professor Pasquino sapendo che poi dalle sette in poi se vogliamo internos possiamo proseguire un attimo la discussione anche non registrata eventualmente insomma comunque per parte mia possiamo continuarla Gian Paolo una domanda al professor Pasquino se non ritenga che la prosecuzione della prima repubblica nel sistema dei partiti nasce da una diciamo così da un mi farsi la battuta da un tradimento della nascita del sistema dei partiti nella democrazia italiana nel senso che il sistema dei partiti nella nostra democrazia nasce sulla base della costituzione e sono partiti che si formano su culture e su ideologie che tengono insieme le comunità politiche negli anni 80 anche forse anche prima ma insomma i fenomeni nella società italiana e nella politica internazionale hanno determinato l'abbandono o la crisi come si vuole leggere delle ideologie e quindi quei partiti che erano nati in quel modo si sono ritrovati ad essere delle scatole vuote improvvisamente private della loro ragion d'essere e cioè della loro cultura a seguire questo come dire il popolo non la gente il popolo non ha trovato più la ragione per aggregarsi in una formazione politica o in un'altra e ha inteso la politica come il soggetto come dire responsabile delle proprie disgrazie questo fenomeno è stato solamente come dire interrotto parzialmente da un intervento extra che è stato quello della magistratura sul tema della corruzione ma in effetti non avendo alcun effetto se non quello di proseguire la come dire la deriva del sistema dei partiti italiani ecco a questo la 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 terapia è quella di ridare un forte potere ai cittadini è sufficiente e questa questo maggiore potere professore chi glielo conferisce ai cittadini raccoliamo le tre domande o rispondo subito Bruno devi attivare l'audio devi attivare l'audio Bruno se no non ti sentiamo ecco velocemente come preferisce professore vuole rispondere subito e poi fare una replica un po' più tardi ma forse è meglio è meglio fare le domande e darle il globo perché abbiamo una domanda secca Raffaele il microfono scusatemi professore Pasquino io la seguo sempre l'apprezzo sempre quindi mi fa molto piacere poterle fare una domanda in un paese come il nostro che ha una politica mediocre un livello dei manager sempre più basso un quadro di interlocuzione con le forze sociali sindacati del tutto inesistente un paese che maltratta i giovani con contrattini da poche centinaia di euro e li portiamo fino a 40 anni quando entrano definitivamente in depressione sostanzialmente mentre in epoche passate Einstein ha inventato la sua teoria a 24 anni Leopardi ha scritto l'infinito a 21 anni l'età più creativa è proprio quella e noi li mortifichiamo un paese che ha un astensionismo ormai che è destinato a superare anche il 50% un paese che ha una PA che non funziona un paese dove non funziona niente dove però abbiamo la Cappella Sistina il Colosseo Venezia eccetera eccetera ma un paese del genere che sta peraltro in un'Europa sempre più debole ma non è un paese già morto senza che lo sappiano Giacomo visto che siamo in tema di provocazioni per il professor Pasquino che tanto le spalle ce le allarghe ne aggiungo una anch'io lei pensa che la democrazia sia compatibile con la trasformazione digitale? Grazie e adesso l'ingegnere Pozzi un'altra domanda altrettanto altrettanto ficcante Esattamente quello che ha appena chiesto Giacomo Amazzone se nella frammentazione descritta dal professor Pasquino non abbia avuto un ruolo determinante il processo di grande trasformazione digitale e conseguentemente la disintermediazione che naturalmente ha tolto grandissimo valore a quei mediatori istituzionali politici che erano i partiti Grazie ecco professore lei ha la parola Sì insomma lei pensa che io sono davvero bravissimo che riuscirò a cavarmela così rapidamente io invece chiedo scusa a tutti perché alcune delle risposte saranno assolutamente schematiche quasi al limite del sì no primo non conosco un'altra occasione non conosco abbastanza tutti gli elementi della trasformazione digitale però certamente nella misura in cui le persone possono comunicare senza incontrarsi questo in qualche modo indebolisce la democrazia indabolisce la politica la politica è un incontro fra persone che si parlano si criticano apprendono magari tornano a casa e studiano acquisiscono altre informazioni la politica è una conversazione fra persone che intendono governarsi ricordo a tutti che ta politica come diceva Aristotele è un plurale cioè quello che gli uomini e le donne in questo caso gli uomini ma forse anche le donne poi a casa fanno fra di loro e se gli uomini e le donne possono fare queste cose da soli certamente c'è un indebolimento c'è un indebolimento soprattutto della propensione associativa della capacità associativa e poi della trasformazione di questa capacità in forza anche politica questo è il primo punto il secondo punto è che certamente non fanno un buon lavoro i politici che parlano di disintermediazione questo è naturalmente era il seguito inevitabile della rottamazione cioè era la spinta plebiscitaria di Renzi al suo interno che raccoglieva qualche cosa che già esisteva e che è devastante per la democrazia e oserei dire che è devastante per tutti i sistemi politici ma non è vero perché in realtà le autograzie le dittature i regimi autoritari vogliono frammentare la cittadinanza vogliono tenerli separati vogliono impedire a loro di incontrarsi e quindi di creare una opposizione secondo sto tornando all'indietro sì il problema è che ci sono delle grandissime criticità come sento che si dice in questa società ma l'Italia non è morta perché di tanto in tanto vediamo grandi imprenditori di tanto in tanto vediamo grandi banchieri vediamo talvolta anche dei politici seri spesso queste persone poi se ne vanno via naturalmente Draghi non dimentichiamolo ha vissuto molto all'estero prima di tornare in Italia e così via ci sono ancora molte potenzialità e che non stiamo creando masse critiche per trasformare queste potenzialità in qualcosa di effettivamente rilevante qui lo dico ma so che il problema è più complesso molte delle energie nuove verranno dagli immigrati che cercheranno di farcela e quindi si impegneranno maggiormente però noi dobbiamo creare le strutture le modalità che consentono agli immigrati di presentarsi e di agire al meglio per quello che riguarda le culture politiche il problema è che le culture politiche italiane che sono splendidamente rappresentate nell'articolo 3 della Costituzione i cittadini e cioè la cultura politica liberale la persona cioè la cultura politica cattolico-democratica i lavoratori qui è difficile dire che cosa che l'aggettivo deve usare la cultura socialista la cultura comunista la cultura marxista comunque i lavoratori quelle culture politiche non sono state innaffiate alimentate dai partiti e i partiti si trovano quasi privi di culture politiche quando crolla il muro di Berlino crolla addosso a tutti ed è ridicolo pensare che fosse poi un duo polista come Berlusconi a fare rivivere una cultura liberale oggi c'è un'unica cultura politica che potremmo utilizzare al meglio ed è la cultura politica europeista quindi bisogna tornare a Spinelli perdendoci anche l'uso di criticare Spinelli ma sapendo che c'è una cultura europeista che è fatta di diritti che è fatta di ambizioni di mettere insieme paesi diversi che è fatta della prospettiva di prosperità e anche di pace mi ha molto divertito se posso dire così l'espressione credo che fosse di Michele no vax no tax no pax si può capavolgere il tutto vax tax non dirò che le tasse sono belle ma dirò che sono doverose e pax però non la pax a tutti i costi la pax soltanto si è accompagnata dalla giustizia sociale e la pax ovviamente scelta da coloro che poi debbono pagare il prezzo della pace le conseguenze economiche della pace è un libro straordinario di Keynes su Versailles non siamo in questa situazione però quel libro comunque deve ancora essere letto per il resto francamente la discussione è stata molto ricca in qualche caso oserei dire se mi consentite alla fine sono un professore è stata persin troppo ricca cioè qualche volta siete andati in direzione che non potevo seguirvi e insomma Rico non mi ha detto di parlare del mondo non mi ha detto di parlare dell'America e l'America non è l'unica chiave interpretativa neanche Putin è l'unica chiave interpretativa quindi io ero sul governo Draghi e ho cercato di mettere insieme la persona e le istituzioni però fatemi dire ancora due o tre cose sto correndo perché devo mangiare qualcosa e poi sono a rete 4 alle 20 e 30 e questa è la ragione della mia fretta credo che sia da un lato giusto porre il problema delle difficoltà delle democrazie in particolare delle democrazie liberali e su questo concordo con De Angelis dove non concordo però è che questa sia una crisi irreversibile assolutamente no queste sono difficoltà di funzionamento che possono essere sanate per di più naturalmente sappiamo che le democrazie sono molte quindi alcune hanno maggiore difficoltà alcune minori dobbiamo preoccuparsi moltissimo delle difficoltà di funzionamento della democrazia USA ma possiamo preoccuparsi della Norvegia assolutamente no e soprattutto vi propongo l'esercizio mentale all'incontrario in nome di che cosa combattono gli studenti di Hong Kong in nome di che cosa combatte la signora Aung San Suu Kyi in nome di che cosa le varie opposizioni ai regimi autoritari africani combattono in nome della democrazia e di quale democrazia della democrazia che hanno visto che hanno visto a Oxford che hanno visto a Cambridge che hanno visto a Harvard che hanno visto persino alla Sorbona cioè la democrazia come la pensiamo noi la democrazia che Sartori chiamerebbe ideale è viva e combatte insieme insieme a noi se posso dirlo così e quindi direi di essere più attenti alla critica però condivido un punto che bisogna cambiare fondamentalmente le istituzioni se vogliamo dobbiamo cambiare il gioco e il gioco non è presidenzialista però il gioco è semi-presidenzialista e quello è il gioco perché sposto il potere sulle istituzioni è lontano da partiti deboli inadeguati incapaci comunque di riuscire a controllarlo per il resto credo che sono d'accordo con varie cose che avete detto soprattutto sono d'accordo con chi ha parlato della comunicazione sia Stefano Rolando sia se ho capito bene Sodano dobbiamo approfondire questo argomento perché la politica se è parlare fra persone però è comunicare fra persone e quindi una buona comunicazione che sconfigge le stupidaggine e le superficialità e che argomenta che presenta una varietà di soluzioni perché in democrazia non c'è mai un'unica soluzione secondo me una comunicazione di questo genere farebbe produrre dei passi avanti significativi la situazione è ovviamente molto difficile però se ci voltiamo indietro diremmo che ci sono stati momenti nella storia delle democrazie del mondo in cui la situazione era molto migliore credo proprio di no poi possiamo naturalmente discutere e scegliere gli esempi e così via però siamo in una situazione difficile e io credo che abbiamo gli strumenti per padroneggiarla con grande grande impegno con grande dispendio di energie però si può fare yes we can professore vi segnalo vi segnalo che Draghi si è dimesso si è dimesso si è dimesso Draghi si beh allora una reazione professore a volo si è dimesso adesso vediamo che cosa fa il Presidente della Repubblica perché il Presidente della Repubblica può ridare l'incarico sentiamo le motivazioni e così via anche questo le democrazie sono molto flessibili le democrazie parlamentari hanno il pregio di essere elastiche di accomodare più soluzioni di consentire la creatività questo si lo affido naturalmente alla credo alla cultura politica di Sergio Mattarella e forse di alcuni altri parlamentari che non sono tutti in blocco da buttare via professore lei racconta l'incontro che ha avuto con Draghi in America negli Stati Uniti no no non posso ho un minuto no 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 ma volevo dire quell'immagine che ebbe allora di Draghi è quella che se lo immaginava così era già impredicato di diventare un gran commì no io credo che in quel periodo Draghi non ci pensava affatto pensava a una sua carriera probabilmente accademica anche se il suo maestro Modigliani era come sapete tutti fortemente interessato alla politica Draghi era fondamentalmente un accademico un accademico cauto un accademico riflessivo un accademico però assolutamente incline a imparare a studiare professore noi la ringraziamo tanto speriamo di riaverla fra noi in un momento più tranquillo magari in autunno per affrontare i temi liberalismo democrazia insomma su cui abbiamo avuto questo ultimo scambio su cui costruire un altro seminario e comunque anche con una riunione redazionale anche più informale di questa per capire quali sono i cantieri su cui costruire questa democrazia futura grazie di cuore non prometto niente vi saluto buona serata grazie professore grazie dell'intervento che è stato molto molto apprezzato chi vuole parlare in questi ultimi minuti salutare salutare Gianfranco e augurargli il meglio ciao grazie a tutti grazie a presto alla prossima ciao ciao grazie e ricordo Raffaele il suo articolo fino all'ultimo ciao ciao a tutti grazie ciao grazie a tutti ciao ciao ciao